ciao a tutte da mamma bianco questo è un piccolo video consiglio su uno smacchiatore con cui mi trovo benissimo ve lo faccio vedere è dell'omino bianco eccolo qua spero che lo vediate bene pretrattante smacchia e sgrassa a spray lo trovate nei supermercati sicuramente l'avete già visto non so se avete avuto modo di provarlo io ne ho provati parecchi e questo è quello con cui mi trovo meglio lo utilizzo se sono macchie poco poco importanti diciamo così lo spruzzo sul capo e prima di metterlo in lavatrice poi procedo con il lavaggio altrimenti per le macchie un po più importanti faccio un vero e proprio pretrattamento quindi lo spruzzo sulla macchia lo lascio agire qualche minuto dopodiché vado a strofinare con spazzolina e acqua e a volte anche magari più di una volta vado avanti qualche minuto e poi metto in lavatrice e procedo con il lavaggio e devo dire che la maggior parte delle volte ottengo davvero dei buoni risultati quindi spero che possa esservi utile questo piccolo consiglio fatemi sapere un bacio a presto da mamma bianco a presto Grazie per la visione!